Shhh! la divisa e lui lascia il cuscino e tira giù piano piano senza fare troppa polvere ho visto? te una volta che prendi non devi più lasciare vedi? diviene giusto si sistema piano piano posso provare con Fabio? io proprio posso provare perchè? ho fatto i piedi no? ho fatto i piedi 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 Rosalba Rosalba Rosalba